Sai che con mollette e mollettine di legno si possono fare degli adobbi natalizi davvero molto carini? Ciao! Io sono Letizia, creativa del canale Vivi con Letizia, dove puoi trovare tantissimi progetti di riciclo creativo, fai da te e trucchetti per casa. Quest'anno, per Natale, ho deciso di fare degli adobbi per l'albero con le mollette di legno. Quindi ho fatto un giro su Pinterest e ho scovato per te 5 progetti davvero molto carini e facilissimi da realizzare anche con i bambini. Se ti piacciono tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Se invece questo video non ti piace, lasciami pure la tua critica costruttiva nei commenti. Ora passiamo al tutorial, continua a guardare! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!